Siamo con il professor Guerino D'Ignazio che è il delegato prolettore intanto e poi delegato alla internazionalizzazione del nostro Ateneo e con il professor Giuseppe Passadino che invece è delegato alla ricerca e al trasferimento tecnologico. Li abbiamo in istudio questa mattina per mettere a fuoco insieme a loro un'iniziativa molto importante che è in programma il prossimo 18 novembre e che si intitola Euraccess. Al professor Passadino chiederei di spiegare brevemente, naturalmente andremo avanti con questa intervista per qualche minuto, però introduciamo brevemente questa informazione su Euraccess, cos'è, come la nostra università viene coinvolta e che cosa rappresenta. Euraccess è una piattaforma della comunità europea che intende aiutare i giovani ricercatori a trovare delle posizioni in vari laboratori europei. In che modo? Ciascun giovane ricercatore, quindi ciascun laureando, ciascun laureato, ciascun dottorando o postdoc può all'interno di Euraccess trovare delle posizioni aperte in altri laboratori europei. Quindi andando su Euraccess è possibile trovare delle posizioni dove poter proseguire la propria carriera e trovare delle posizioni dove esprimere il proprio talento. Questo come viene fatto? Perché la comunità europea coordina i vari atenei, i vari gendri di ricerca, a che tutte le posizioni aperte siano messe insieme e poste sul portale Euraccess. Questo quindi crea una grandissima quantità di dati che cercano di far incontrare le posizioni aperte con i giovani ricercatori. Il motivo per cui l'Università della Calabria entra in questo Euraccess è dovuto al fatto che per il centro-sud, l'Università della Calabria, grazie all'azione dell'Ufficio per la internazionalizzazione del nostro Ateneo, l'Università della Calabria è il referente per il centro-sud di Euraccess, cioè il nostro ufficio per le relazioni internazionali coordina gli sforzi dell'Università del Meridione nell'ambito della piattaforma Euraccess. E per questo motivo, nel momento in cui Euraccess, per far conoscere un'iniziativa, ha organizzato un pullman che gira da varie parti dell'Europa, ha deciso di fare in modo che questo pullman si fermasse presso l'Università della Calabria e quindi facesse conoscere al nostro Ateneo e alle altre università del centro-sud questa loro iniziativa. Ecco, dobbiamo anche evidenziare che noi siamo il punto di riferimento per il centro-sud, però questa è un'iniziativa che coinvolge ben 34 università europee di 16 paesi. Ecco, è previsto l'arrivo per quel giorno di un bus, di un autobus, diciamo anche di che cosa si tratta. Come dicevo prima, è un bus che gira 34 università in tutta Europa e in modo particolare, quando questo bus arriva nelle varie sedi, quindi quando arriverà qui il 18 novembre, organizzerà una serie di iniziative in cui ci saranno, diciamo, dei tecnici che spiegheranno quali sono le potenzialità di avere un accesso ai giovani che sono interessati e inoltre darà la possibilità ai giovani che sono interessati di poter caricare direttamente lì sul momento il proprio curriculum, di poter fare anche delle foto che poi vengono messe sul portale, se vogliono, però a parte questo ci saranno anche dei momenti un po' diversi che sono essenzialmente il fatto che i ricercatori, giovani o meno giovani, spiegheranno qual è l'importanza di formarsi anche all'estero, questi sono dei ricercatori che hanno avuto un'esperienza all'estero e quindi racconteranno la loro esperienza e quanto questo ha significato per la loro crescita personale e professionale. Questi momenti, diciamo, un po' permetteranno di conoscere Euroaccess, ma anche di avvicinarsi alla, diciamo, alla internazionizzazione, soprattutto europea, in maniera, diciamo, meno formale e più umana. Ecco, lei mi permette proprio con queste ultime considerazioni di passare la palla al professor Vignazio che, come dicevo prima presentandolo, è appunto prorettore del nostro Ateneo ma la delega all'internazionalizzazione. Appunto il professor Passanino diceva prima che è una piattaforma europea e quindi permette uno scambio di esperienze, permette a ricercatori di presentarsi, di sapere che cosa succede, anche di capire come si può accedere, diciamo, sfruttare delle opportunità. È un po' il lavoro, una parte comunque del lavoro che l'ufficio internazionalizzazione porta avanti e quindi questo ci permette, le permette di mettere a fuoco meglio, diciamo, l'attività di cui stiamo parlando. Sì, in effetti, soprattutto adesso per quanto riguarda la ricerca, perché l'Auraccess è destinata, diciamo, ai ricercatori, ai giovani ricercatori europei. Possiamo dire che la ricerca o è internazionale o non è ricerca. Ormai non si può fare ricerca a livello locale, per cui c'è bisogno che la ricerca assuma anche uno spessore di dimensioni internazionali. Euraccess è uno strumento che proprio permette l'internazionalizzazione della ricerca, permette ai nostri ricercatori di entrare in un network con altri ricercatori, come diceva prima questo passalino, con altri laboratori in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa, tutto sommato, in modo che si fa una ricerca coordinata, in modo che i nostri ricercatori entrino in rete. Noi quello che vogliamo è che la nostra università sia sempre più internazionale, sia un campus, cioè noi vogliamo che ci sia veramente un'internazionalizzazione del campus. E questo adesso, per questo evento, riguarderà soprattutto la ricerca, ma naturalmente vogliamo che anche la didattica sia più internazionale possibile, sia più un'università veramente europea, quando diamo un significato ben preciso quando diciamo di università europea, e nello stesso tempo sia, come dire, dia la possibilità ai docenti, e in questo caso ai giovani ricercatori, di entrare in contatto, di mettersi in rete, di essere in contatto appunto con altri ricercatori di altre università. Perché questo, professore, a parte appunto, come lei diceva, aprire sempre di più il campus a questa dimensione europea, nel senso più vero, ampio e concreto, ma poi anche oltre la dimensione europea, effettivamente consente agli studenti di avere che cosa in più? La risposta è scontata, ma vorrei che lei, diciamo, si soffermasse un po' di più su questo aspetto. Un orizzonte più ampio rispetto a quello che è l'orizzonte del territorio. È chiaro che noi, i nostri studenti, noi vogliamo che i nostri studenti abbiano una formazione di alto livello, quindi di qualità alta per, diciamo, competere anche con i professionisti, di, diciamo, con le persone che si laureano in altre università. Però l'internazionalizzazione tende a dare proprio questo slancio e aprire le porte, cioè di apertura, non di chiusura, ma di apertura. Il problema, lo sappiamo benissimo, questo, voglio dire, lo ripetiamo, ma è noto a tutti che in realtà molte volte noi perdiamo, diciamo, perdiamo, tra virgolette, i nostri laureati perché la loro formazione la spendono poi in altri territori e quindi sotto questo aspetto non riusciamo a fare in modo che la classe dirigente del futuro rimanga sul territorio perché noi in effetti ci fermiamo a dare una formazione di qualità e poi il contesto tutto sommato è abbastanza negativo sotto questo aspetto. Però per i ricercatori questo è possibile, forse più che per altri, insomma, diciamo, altri lavori, i ricercatori che indubbiamente devono avere un orizzonte molto ampio, un'apertura veramente verso tutto quello che succede nel mondo, la globalizzazione ha ristretto il mondo, quindi tutto quello che succede nel mondo, nei laboratori, nei dipartimenti al destro e nello stesso tempo poi rientrare qui perché portano a casa, portano all'Università della Calabria anche il loro bagaglio di esperienze. Questo magari è quello che lei diceva, cioè fare l'esperienza all'estero e poi rientrare probabilmente, dico probabilmente, è più semplice per un ricercatore che non per un laureato che magari è costretto a lasciare, in questo caso la Calabria, riesce a dimostrare, molte volte e più delle volte è così, la qualità, diciamo, del suo livello di preparazione ma poi è costretto a rimanere fuori. Ci sono delle iniziative, per insistere ancora un attimo sulla internazionalizzazione, iniziative particolari che avete promosso, che state promovendo e che stanno, come dire, rafforzando questa propensione o questa volontà di aprirsi al contesto globale, diciamo così. Noi abbiamo dei programmi, a parte l'Erasmus, che è conosciuto, che tutte le università italiane, europee, in effetti, hanno il programma Erasmus, si parla di generazione Erasmus, quindi generazione di studenti che hanno avuto delle esperienze di mobilità in altre università europee. A parte il programma Erasmus abbiamo dei programmi che sono specifici per questa università, per l'Università della Calabria e mi riferisco ad un programma che è unico alla Dimission in cui noi riusciamo ad attrarre studenti da tutte le parti del mondo, quindi vengono dall'Indonesia all'Equadola. Oggi mi pare che siano quante i paesi? Noi abbiamo 61 paesi, vengono da 61 paesi, abbiamo 700 studenti internazionali che vivono nel campus e ogni anno... Aumenta, si allarga questa... immatricoliamo almeno sui 180 studenti internazionali al di fuori dell'Europa, poi gli studenti europei in effetti vengono col programma Erasmus, stanno un periodo di sei mesi, di un anno e poi ritornano al loro paese di origine. Per gli studenti internazionali al di fuori dell'Europa la differenza è che noi li immatricoliamo, quindi si iscrivono, diventano a tutti gli effetti i nostri studenti, quindi completano il loro percorso di studio qui all'Università della Calabria e si laureano all'Università della Calabria. Perché lo facciamo? In realtà questa è una scelta culturale, noi vogliamo che, come dicevo prima, il campus di Alcavacata, l'Università della Calabria, sia più internazionale possibile, sia più aperto al mondo e lo facciamo anche, ci danno un contributo enorme per quello che viene chiamata l'internazionalizzazione Tom, cioè l'internazionalizzazione tramite gli studenti internazionali per i nostri studenti che non sono andati all'estero, che non sono andati fuori, per cui hanno possibilità di scambiarsi opinioni, idee, di ampliare i loro orizzonti e questo è per gli studenti che vengono, per gli incoming. Poi abbiamo un altro programma che si chiama Most Mobility Students, per i nostri studenti che, oltre all'esperienza Erasmus di mobilità all'interno dell'Europa, vogliono andare al di fuori dell'Europa, per cui noi diamo delle borse di studio per gli studenti che vogliono avere questa esperienza al di fuori dell'Europa. Che naturalmente, immagino, mi scusi se l'interrompo, devono essere studenti, come dire, particolarmente meritevoli, che hanno, no? Esatto, sono di alto livello, diciamo i più bravi, se proprio vogliamo dire così, e in più devono avere veramente una conoscenza soprattutto di una lingua straniera, ma soprattutto dell'inglese. E quindi abbiamo, ci sono attualmente degli studenti che sono in università negli Stati Uniti, in Argentina, in Australia, proprio attraverso questo programma di Mobility Students. Diamo una porsa, quindi investiamo per fare in modo che la loro formazione sia più internazionale possibile. Bene, vorrei ritornare invece un attimo al professor Passarino, che come dicevo prima, è il delegato del rettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico. Abbiamo parlato di Euraccess, lo abbiamo inquadrato, abbiamo capito che cosa succederà il 18, ma volevo un attimo chiederle qualcosa invece sulla cosiddetta terza missione dell'università, questo trasferimento delle conoscenze, della ricerca, mi permette di dire al territorio, al mondo dell'impresa. Ecco, che cosa facciamo di significativo, di importante e quali risultati soprattutto abbiamo fino ad oggi raggiunto? La terza missione è appunto il trasferimento delle conoscenze che emergono dalla ricerca dell'università al mondo dell'impresa e uno degli obiettivi più importanti per le università italiane negli ultimi anni. L'università della Calabria ha cominciato vorrei dire in anticipo rispetto ad altri, grazie all'azione soprattutto di Riccardo Barberi e del rettore della Torre, ma poi continuato successivamente dall'attuale del rettore e dagli altri delegati, che hanno sempre cercato di intercettare fondi e iniziative europee e italiane per cercare di favorire il trasferimento tecnologico. Ora, questo è abbastanza importante capire che si può fare solo se il mondo, da una parte, che ci sia una ricerca di qualità e questo devo dire che l'università della Calabria è da molti anni una ricerca di qualità. Dall'altra parte però è importante che ci sia un territorio che sia recettivo, quindi un territorio che sia in grado di fare investimenti sulle idee che emergono dalla ricerca e questo invece in Calabria non c'era e ancora non c'è. L'azione dell'università della Calabria in questi anni ha riempito questo vuoto che era ed è intorno alla ricerca di qualità dell'università della Calabria, permettendo a molti giovani di trasferire questa loro capacità in imprese. E questo nel giro di una decina di anni ha portato alla nascita di circa 35 spin-off accademici, cioè a dire 35 imprese nati da laureati o ricercatori per l'università della Calabria che hanno appunto trasferito la loro conoscenza in delle imprese. Alcune di queste sono andate molto bene, molto bene tanto che hanno fatturato circa un milione di euro attualmente, altre attualmente vero bene, se si parte ovviamente può esserci una certa diversità in quelle che sono le soldi successive, però nel complesso abbiamo avuto veramente una grande risposta. Inoltre una parte di queste imprese, ma anche di altre imprese molto significative e legate all'innovazione tecnologica, sono state incubate in quello che è l'incubatore dell'Università della Calabria, TechNest, cioè il nido tecnologico. All'interno del quale attualmente ci sono 11 start-up, cioè aziende innovative appena formate. Anche queste, alcune di queste sono veramente di grandissimo livello, alcune, anzi quasi tutte, hanno vinto i premi internazionali di grande prestigio sia in Italia sia all'estero. Una ha appena avuto un premio internazionale alla Silicon Valley a Mountain View, che è la sede di Google, tanto per intenderci. Ecco, tutto questo interesse da parte del mondo esterno negli ultimi tempi ha veramente sancito quello che è stata un'iniziativa vincente per la Calabria, tant'è che, approfitto per dirlo, nel prossimo dicembre il Premio Nazionale dell'Innovazione, che è il premio che viene dato in Italia alla migliore idea imprenditoriale nata nell'Università, verrà ospitata proprio nell'Università della Calabria il 3 e il 4 di dicembre e quindi ci saranno tutte le 64 milioni di idee imprenditoriali italiane qui all'Università della Calabria e verrà premiata la migliore vincitrice da parte di una geria di esperti nazionali coordinata dal P&A Cube, che è l'agenzia italiana, che si occupa di innovazione e di trasferimento tecnologico. Ecco, lei ha anticipato la domanda che lei avrei fatto subito dopo, però c'è un'ultima questione sulla quale vorrei soffermarmi. Lei diceva che abbiamo ottenuto importanti risultati, c'è un punto di partenza indiscutibile che è la qualità della ricerca dell'Ateneo, poi questa ricerca appunto viene trasferita, ha parlato degli spin-off, ha parlato delle start-up, eccetera. Però una domanda che vorrei farle è questa, quanto sta incidendo questa attività di trasferimento sul miglioramento del sistema economico e del sistema imprenditoriale calabrese? Non abbastanza. E perché non abbastanza? Non abbastanza finora, vorrei aggiungere, perché il territorio è un territorio che veramente era abbastanza lontano da raggiungere. Lontano ne dice, mi scusi, dal punto di vista anche culturale? Il territorio è un'innovazione estremamente avanzata che si rivolge ad un pubblico molto acculturato che deve essere molto pronto. Dicevo prima, non è un caso che appunto il premio per una delle nostre start-up più recenti è stato dato alla Silicon Valley, cioè in un posto dove c'è la cultura, la preparazione per capire il tipo di innovazione proposto, che magari in un altro contesto potrebbe non essere compreso appieno. Però volevo dire questo, se è vero che finora non è stato abbastanza, anche se comunque c'è stato un riscontro, noi abbiamo, le nostre 11 start-up danno lavoro a circa 200 persone nel comprenso, quindi comunque c'è stato un ritorno. In più c'è stato un allargamento, diciamo, di quella che è la base del network di imprese che lavorano soprattutto nel campo dell'informatica e che adesso rendono la nostra provincia come una delle sedi di informatica tra le più seguite in Italia. C'è stato comunque un ritorno, non sufficiente ancora, però la cosa importante è in queste cose è perseverare. Quindi se è vero che finora è stato non sufficiente, non ancora sufficiente questo riscontro, a mio avviso comincia ad esserci, tant'è che le varie categorie del mondo produttivo si stanno interessando alle nostre imprese e abbiamo di recente firmato un'intesa con la Confindustria Calabrese, ma anche ci sono contatti molto vicini che penso porteranno presto ad altre intese con FAPI, con altre ancora, proprio perché il mondo calabrese comincia ad accorgersi della nostra realtà, ma soprattutto comincia a capire l'importanza dell'innovazione, perché nel momento in cui si capirà l'importanza dell'innovazione allora anche le imprese calabrese, le imprese calabrese porteranno all'interno un'innovazione e di conseguenza le nostre imprese, il territorio di ricerca che noi stiamo costruendo potrà incidere ancora di più su quello che è la vita improduttiva calabrese e quindi avere, mentre attualmente la maggior parte dei clienti delle nostre imprese stavano in Giappone, Stati Uniti o il resto d'Europa, avere anche invece dei clienti che siano qui in Calabria. Se io volessi sintetizzare queste sue considerazioni potrei dire, spero di trovarla d'accordo, un processo lento, non facile, ma sicuramente importante e destinato in prospettiva ad avere sempre più peso. Se avremo la perseveranza di proseguire... Quella la diamo per scontato perché sappiamo come si lavora all'università e quando e come diciamo, quanto e come gli obiettivi che ci prefiggiamo poi vengono raggiunti. Bene, allora io ringrazio il professor D'Ignazio per la sua partecipazione, la sua testimonianza sulle attività di internazionalizzazione. Ringrazio ovviamente il professor Passarino per quello che ci ha detto sui diversi aspetti rispetto ai quali è stato sollecitato. E do, allora concludendo appuntamento ai nostri telespettatori, riguardo a questi due momenti, il 18 di novembre con Euraccess appunto, ma mi permetto di aggiungere, e lo ha fatto già il professor Passarino, l'appuntamento del 3 e del 4 dicembre con il premio nazionale dell'innovazione.